Finalmente potrò conoscere i nonni, che bello mamma! Sì, potremo passare tutta l'estate lì, nella tenuta dei miei genitori. Finalmente la famiglia di nuovo riunita. Nuovo appuntamento con la telenovela Primo Amore. Ti sei fatta male? Sei diventato una donna, bambina mia! Sono Paolo in strada, il figlio di Alfredo. Non ti ho riconosciuto perché sei molto cambiato dall'ultima volta che ti ho visto. Francesca. Con Gressia Colmenares e Gabriel Corrado. Dal lunedì al sabato, alle 13.20 e alle 16.